Sono contento di quello che la Lega fa dove governa. Il buon governo della Lega verrà riconfermato sicuramente in Liguria e in Veneto e verrà scelto il cambiamento da tanti italiani che potranno votare le regionali di settembre sul modello del buon governo della Lega, penso alla Toscana, alle Marche, alla Puglia, alla Campania, quindi non vedo l'ora che questi milioni di italiani possano dare il loro giudizio, finalmente dopo mesi di chiacchiere, di paura e di chiusura, scegliendo la Lega, cosa che tutti i sondaggi lasciano prevedere. Noi come Lega ci stiamo impegnando per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza, 8 milioni di studenti, 1 milione di insegnanti e il blocco del pagamento delle tasse da qui a fine anno, cosa che il governo non ha accettato. Tutto il resto, per quello che mi riguarda, interessa anche a zero. Nel blocco delle discoteche, visto che l'età media dei contagi si sta abbassando? Un governo che chiude locali e discoteche, spalanca i porti a decine di migliaia di clandestini che stanno sbarcando, che portano caos, problemi e virus, è un governo di incapaci, prima va a casa meglio è, prima di chiudere le discoteche pensino a chiudere i porti e poi ne riparliamo.